. Juve devastante, Torino al tappeto, 4-0 nel derby della Mole. . Fonte immagine, Twitter chioccio la Juventus FC. Il derby è bianconero. La Juventus si impone sul Torino nell'anticipo della sesta giornata di Serie A 2017-18 in una partita dominata dal primo all'ultimo minuto. . Il risultato finale è un 4-0 che sta quasi stretto ai padroni di casa, in gol con Dybala, doppietta e dieci centri in campionato, Pianic ed Alex Sandro. Gara condizionata dall'ingenuità di Baselli, espulso a metà primo tempo. . . Bianconeri che in superiorità numerica divertono e si divertono, mettendo in ripetuta difficoltà un Sirigu che vede arrivare palloni da tutte le parti, specialmente nella parte centrale della ripresa. . Juve a punteggio pieno, 6 vittore in 6 gare, fermi a 11 gli uomini di Mihailović. . 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 che diventa rosso tra le proteste di Mihailović e del giocatore. Il tecnico serbo richiama uno spento Iago Falque per inserire Acqua e riequilibrare i suoi con un 4-2-3, mentre Lianco salva sulla linea un tentativo di quadrado su cross di Alexandro. Il giocatore gestisce i ritmi la Juventus, in totale controllo del match, sugli esterni cè spazio, Sirigo deve smanacciare in un paio di circostanze, fin quando al 40 non è pianica a metterlo nuovamente in ginocchio. Quadrado ha spazio sull'ala e pesta il rimorchio del bosniaco, che col destro non lascia scampo all'estremo ospite. Il toro è pericoloso soltanto con delle punizioni pennellate in mezzo che la squadra di Allegri controlla senza patemi. Da una di queste nasce anche un contropiede 3 contro 1 divorato da Quadrado, comunque tra i migliori in campo. La furia agonistica bianconera non si placa nemmeno nella ripresa, dopo tre minuti Alexandro Colmancino dai 20 metri va vicinissimo all'incrocio dei pali, il brasiliano si riscatta al 57, quando stacca in anticipo sul primo palo sul corner di Pjanic non dando scampo a Sirigo. De Silvestri firma all'ora di gioco la prima conclusione in porta del Torino con un destro centrale, facile da amministrare per Buffon, mentre i padroni di casa sostituiscono Quadrado con Bernardeschi. Subito pericoloso l'ex Fiorentina, che prova a calciare una palla vagante al limite, ribatte Lianco, il quale poco dopo mette in corner con più di un brivido un cross di Dybala. E ormai un assedio bianconero, di nuovo Bernardeschi sfoga il sinistro dal limite, Sirigo e spinge in qualche modo, mentre è tutta di riflessi la parata sul colpo di testa ravvicinato di Benatia, imbeccato con un cross chirurgico di Douglas Costa. Il portiere ex Palermo non ha pace, ancora Dybala lo chiama in causa direttamente su punizione, mentre al 69 se l'accava per quattro volte nel giro di 10 secondi, con l'aiuto della sua difesa che respinge almeno un paio di conclusioni. I minuti di follia vengono chiusi dal palo di Mandzukic, che batte di prima sull'ennesimo traversone di Douglas Costa, trovando il legno. I minuti di fiato. L'ex Bayern lascia spazio a Iguain per i 10 minuti finali, che non sono solo di controllo per i padroni di casa. Ancora il 10 bianconero illumina cercando un pallonetto e una rovesciata che terminano alti, mentre Sirigo si supera per respingere l'ennesima palla calciata da distanza ravvicinata, da Douglas Costa. Ci pensa Dybala a siglare il 4-0 finale nel primo minuto di recupero con un tocco sottomancino propiziato da uno spunto di Iguain. La Juve sale a 18 punti, prosegue la propria corsa a braccetto con il Napoli a punteggio pieno, mentre il Torino rimedia la prima sconfitta stagionale e rimane fermo a 11. A presto!